E' un museo, guarda, è bellissimo, guarda, i vestiti, era la pena di vederlo, ma c'è la cavagna della ricorda, cavagna si chiama, allora chiuso sapete cos'è no? il caduso, il caduso, il caduso, il caduso, questo qui sapete cos'è questo qui? questa è la macchina di dare il tuo padre, la sposa così, la sposa così, la sposa è la sposa degli anni 30 e accanto c'è un abitino invece della battesima, la battesima dei papi che è sorvata, buonga, e ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa ce l'abbiamo, questa è il mio, una piccolina, una piccola, una piccola, una piccola, una piccola, una piccola